Siamo per così. Pronti, via! Ma con la mano Antonio e Delia, dai! Sta profitando, sta profitando! Hanno respirato! Hanno vinto Vladi e Nicola! Io ne avevo... Luca, non ci stai a dire! No, state bene con Rossetto! Mettetevi vicini, mettetevi vicini con Rossetto! Roberto, ti prego, l'avvocato e Nicola con Rossetto! Rossettati! Non ci si riuscita? Non avete vinto niente però, Vladi e Nicola! Niente! Abbiamo perso la dignità, ma vinto niente! No, però devo dire che... Nicola! Eh? Oh! Baccia bene, poi non mi aspettavo... Sta tutta sbaffata qui! Qua! Oddio! Sopra che ho mangiato sugo al buio, eh!